Sono le riprese di un neodossietto a Natale da queste parti a Colonia, come potete vedere la gente passa, sta distruggendo tutto ma non taglierò niente perché non avrò assolutamente voglia, adesso proseguiamo perché c'è un'altra vetrina ragazzi, la vetrina dove ci sono i combattimenti e la vetrina è medievale credo, c'è il castello, il castello reale, guarda lì ci sono anche quelli in alto sulla torre, interessante, ci sono un po' di decorazioni, non so quanti milioni di ore hanno impiegato per preparare tutto, ma potremmo vedere. Anche le oche, un po' di tutti gli animali, c'è anche la principessa con la tracchiona gigante, si fa entrare nel castello, wow, stupendo, grazie a tutti e alla prossima. Ecco voi ora la seconda vetrina, questa voce vi arriva non esattamente correllata al video perché quel bambino di merda che sta guardando la vetrina ha fatto un casino della madonna urlando in inglese in modo esasperato, quindi ho deciso che se qualcuno voleva sentire la mia vocina dovevo cambiare tutto. Ecco questo è il secondo presepie dove siamo andati e praticamente anche qui le cose si muovevano, c'erano scoiattoli, c'erano delle persone dentro questo simpatico presepie, forse voi non riuscite a vedere tutto ma c'era della gente anche sul secondo piano che dormiva allegramente e poi c'erano immagini di vita conviviale nel presepe, dopodiché c'erano svariati animaletti di tutti i tipi, gatti, maialini, c'era un po' di tutto e niente, il tutto sopra questo simpatico cotone o materiale sintetico e abbiamo visto questa vetrina, mi hanno detto che era la seconda ma una volta ce ne erano state molte di più. Grazie a tutti e ciao!